Ancora più scioccante l'esordio in Serie A di Frank Debura sul campo del Chievo, affonda all'Inter, la stertata sul destro di Walter Birza che sfrutta la perfezione, l'assist di Fabrizio Cacciatore e fa 1-0 alla 49esimo minuto, all'81esimo minuto il cross di Inglese, messo fuori da Miranda, controlla, prepara il sinistro che sarebbe il suo piede, poi sterta di nuovo sul destro, Walter Birza incenerisce il connazionale Andanovic, Chievo 2-0.